La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Dobbiamo muoverci. Forza! Quadriamera, via libera! Quadriamera, via libera! Quadriamera, via libera! Quadriamera, via libera 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 liber Voglio che tu ne esca viva. Devi tornare su Ranoch. Costruirti una casa. Ce l'ho già, una casa. Ritorna da me. Vai! Ritorna da me. Dio, sono tutti morti. Qualcuno è arrivato al raggio? Negativo. La nostra armata è stata decimata. Niente da fare. Dobbiamo riorganizzarci. Ripiegare verso gli edifici. Hammer neutralizzato. A tutte le unità. Ripiegare. Ritirata. Ritirata. Ah. No, no, no. Sì, sì. No. 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 Porca putta, ce lo so te. Parla l'ammiraglio, qualcuno è riuscito a raggiungere la cittadella. Temporeggiamo finché non aprirà le braccia. A tutte le flotte, convergere al crucibolo, proteggetelo ad ogni costo. ... 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 Il crucibolo non si è attivato. Dovresti fare qualcosa da lì. Comandante Shepard. Non capisco. Non vedo come. Comandante! 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 Svegliati! Cosa? Dove sono? Sulla cittadella, la mia dimora. E tu chi sei? Io sono il catalizzatore. Pensavo che la cittadella fosse il catalizzatore. No, la cittadella è parte di me. Devo fermare i razziatori. Puoi aiutarmi? Forse. Io controllo i razziatori. Sono la mia soluzione. Che vuoi dire? Il caos. I creati si ribelleranno sempre ai propri creatori. Ma noi abbiamo trovato il modo di impedirla. Il modo di ripristinare l'ordine. Fa restinguere la vita organica? No, terminiamo le civiltà progredite, lasciando intatte quelle più giovani. Come nel caso della vostra, alla nostra precedente mietitura. A scapito di tutte le altre. Le abbiamo aiutate a trascendere, per lasciare spazio a nuove forme di vita. Quelle antiche hanno preso la forma di razziatori. Noi preferiamo mantenere la nostra forma attuale. No, non potete. Senza il nostro intervento, i sintetici distruggerebbero tutti gli organici. Abbiamo creato questo ciclo in modo che questo non possa mai succedere. È la soluzione. Dici di essere il catalizzatore, ma... Cosa sei in realtà? Un costrutto. Un'intelligenza progettata io ogni fa per risolvere un problema. Esisto per portare equilibrio. Per fare da catalizzatore nel raggiungimento della pace tra organici e sintetici. Insomma, una specie di IA. Allo stesso modo in cui tu sei un animale. Io incarno l'intelligenza collettiva dei razziatori. Però tu sei stato creato. Corretto. Da chi? Da una specie consapevole del conflitto che scaturisce costantemente tra sintetici e organici. Fui creato per monitorare i rapporti tra vita sintetica e organica. Per stabilire un legame. Ma non riuscimmo mai a evitare i conflitti. Dunque servì una nuova soluzione. I razziatori. Precisamente. Da dove provengono i razziatori? Li hai creati tu? I miei creatori gli diedero forma. Io ho una funzione. E loro in cambio mi danno uno scopo. I razziatori sono una rappresentazione sintetica dei miei creatori. E che fine hanno fatto? Divenero il primo vero razziatore. Essi non approvarono, ma non c'era altra soluzione. Questo l'hai già detto. Ma possibile che i razziatori siano una soluzione? Gli organici creano i sintetici per migliorare la propria esistenza. Ma tali migliori hanno dei limiti. Per superarli, i sintetici devono essere liberi di evolversi. Devono, per definizione, surclassare i propri creatori. Questo genera conflitto, distruzione, caos. È inevitabile. I razziatori iniettono le forme di vita. Organiche e sintetiche. Preservandole prima che il conflitto le annienti per sempre. Sono stati proprio loro a scatenare il conflitto. Anche se siete in conflitto con i razziatori, loro non sono interessati alla guerra. Ne dubito fortemente. Quando brucia, il fuoco dichiara guerra. Genera conflitto. Oppure si limita a svolgere la sua funzione. Lo stesso vale per noi. Miettiamo i vostri organismi, il vostro sapere, le vostre creazioni. E preserviamo tutto questo sotto forma di un nuovo razziatore. Riportiamo l'equilibrio come un fuoco purificatore. In modo che nuove forme di vita, organiche e sintetiche, possano prosperare. Cosa puoi dirmi riguardo al crucibolo? Il dispositivo che chiami crucibolo è poco più di una fonte energetica. Tuttavia, in combinazione con la cittadella e i portali, è in grado di generare enormi flussi di energia in tutta la galassia. Un congegno piuttosto rozzo, per quanto efficace e versatica. Chi l'ha progettato? È irrilevante, ma soprattutto non abbiamo tempo di discuterne. Il dispositivo in questione venne ideato molti cicli addietro. E ogni ciclo ha portato avanti il progetto, evolvendolo. Perché non l'avete fermato? Credevamo che il progetto fosse andato perduto. Gli organici sono più intraprendenti di quanto prevedessimo. Così ci private del nostro futuro. Senza futuro non abbiamo speranza. E senza speranza saremmo come macchine condannate a una vita programmata. Voi avete speranza, più di quanto pensiate. La presenza di un essere organico qui per la prima volta ne è la prova. Ma prova anche che la mia soluzione non è più valida. E con questo? Occorre una nuova soluzione. Perché mi stai dicendo tutto questo? Perché aiutarmi? Tu hai modificato le variabili. Che vuoi dire? Il crucibolo mi ha cambiato. Ha creato nuove possibilità. Ma io non posso concretizzarle. Se desideri sperimentare una nuova soluzione, devi agire. Ora hai la possibilità di distruggerci. Ma ricorda, anche altri saranno distrutti. Il crucibolo non può discriminare. Tutti i sintetici verranno colpiti. Anche il tuo corpo è sintetico, almeno in parte. Cosa succederà di preciso? Il dispositivo che chiami crucibolo è in larga parte intatto. Tuttavia, i suoi effetti non riguarderanno esclusivamente i razziatori. Colpirà la tecnologia su cui fatta affidamento. I vostri superstiti, tuttavia, saranno in grado di riparare i danni arrecati. Ci saranno delle perdite, ma non più di quante ne abbiate già subite. E i razziatori saranno distrutti? Sì, ma la pace non durerà. Presto, i vostri discendenti creeranno nuove vite sintetiche e ne deriverà un caos inevitabile. Deve pur esserci un altro modo. Sì, c'è. Potresti usare l'energia del crucibolo per ottenere il controllo dei razziatori. Allora l'uomo misterioso aveva visto giusto. Sì, ma lui non ci sarebbe mai riuscito. Era già sotto il nostro controllo. Io invece sì. Morirai. Riuscirai a controllarci, ma dovrai rinunciare a tutto ciò che sei. Se muoio, come potrò controllare i razziatori? La tua forma corporea si dissolverà, ma i tuoi pensieri e persino i tuoi ricordi continueranno a esistere. Perderai la tua natura organica. E perderai ogni legame con la tua specie, pur restando consapevole della sua esistenza. Ma i razziatori mi obbedirebbero? Sì. Potrai controllarci e impiegarci come meglio credi. Esiste un'altra soluzione. Sintesi. Sarebbe a dire? Unisci la tua energia a quella del crucivolo. La conseguente reazione a catena formerà una nuova struttura condivisa tra tutti gli esseri organici e sintetici della galassia. Un nuovo DNA. Neon. Spiegami in che modo la mia energia può unirsi al crucivolo. La tua energia organica, l'essenza della tua individualità, verrà dissolta e poi dispersa nel cosmo. E a cosa servirà? L'energia del crucivolo, rilasciata in questo modo, andrà ad alterare la matrice di tutte le forme di vita organica. Gli organici ricercano la perfezione tramite la tecnologia. I sintetici lo fanno tramite la comprensione. Gli organici si perfezioneranno integrandosi pienamente con la tecnologia dei sintetici. E i sintetici? A loro volta, potranno comprendere pienamente gli organici. È la soluzione ideale. Ora sappiamo che è fattibile, perciò è inevitabile che raggiungeremo la sintesi. Perché non ci avete pensato prima? In passato, sperimentammo una soluzione simile, ma si rivelò un fallimento. Perché? Perché gli organici non erano pronti. Non è una soluzione che può essere imposta. Ora siete pronti e la scelta aspetta a te. Io non saprei. Perché? Ormai i sintetici fanno parte di te. riusciresti a vivere senza di loro. E ci sarà la pace. Il ciclo terminerà. I razziatori cesseranno la mietitura. E le civiltà preservate all'interno diventeranno parte di tutti noi. La sintesi è l'evoluzione finale della vita. Le strade sono aperte. La scelta aspetta a te. La scelta aspetta a te. Grazie per la visione!